Carolina ha detto che stava da sola con i figli e andava a casa io volevo stare con Sandro, solo tutti e due, gli parlavo, gli spiegavo tutto e lui c'è pure Diego, io come faccio? fammi capire come faccio, non mi sento nemmeno bene ho le palpitazioni, è un casino, sta succedendo un casino e io non sto bene, non sto bene senti qua, senti c'è proprio, sta salendo tutto, c'è battiti a mille sicuramente la pressione è 150 su 200, io sono sicuro, è così, sto male, sto male ish, Dodo, tutto è calmo, tu va bene? ma tu va bene o cazzo, tu va bene Dodo, guardami, generalmente sono una persona poco paziente ma con te mi stupisco ogni giorno sempre di più sono sette mesi che andiamo avanti con questi tentativi fondamentali mancano tre settimane allora glielo vuoi dire? eh ma... adesso andiamo di là, sorridi, ti siedi e come ho fatto io glielo dici e ti rilassi ma perché glielo hai detto? sì dai, vieni fuori dal bagno cioè, glielo hai detto tutto, tutto? sì, glielo ho detto tutto, allora come glielo dici? che dopo un periodo di lutto per mamma ho ritrovato il sorriso un timido sorriso su una meno arrogante un timido sorriso che voi sapete quanto io quanto ma anche se glielo dico domani col sole, cioè di giorno è meglio adesso è sera stiamo cenando non riesco a me la digerire secondo me no Carlo, mi vuoi sposare o no? non riesco a me la digerire